ogni cosa fluisce e rifluisce ogni cosa a fasi diverse tutto si alza e si abbassa l'oscillazione a destra del pendolo è pari a quella sinistra tutto si compensa nel ritmo questo grande principio contiene la verità che in ogni cosa è presente un movimento ben preciso che si espande in ogni direzione un fluire continuo per ogni oscillazione in avanti una all'indietro un moto pendolare un'alta e una bassa marea questo avviene tra i due poli su tutti e tre i piani il principio del ritmo è in stretto rapporto con il precedente principio quello della polarità il fatto che tra due poli esista un ritmo non comporta però che l'oscillazione giunga necessariamente alle due estremità questo avviene in realtà molto raramente è difficile infatti stabilire quali siano gli estremi polari l'oscillazione si dirige sempre prima verso un polo poi verso l'altro e ci sarà sempre per ogni azione una reazione un avanzamento e un arretramento un innalzarsi e non abbassarsi sempre in ogni fenomeno universale questo principio vale per i pianeti per gli uomini le piante gli animali i minerali le sorgenti di energia la materia in genere la mente lo spirito per tutti quanti partendo dalle manifestazioni spirituali del tutto possiamo vedere come ci sia un'entrata ed un'uscita per dirla come i bramini un'ispirazione ed un'espirazione di brama da prima si creano gli universi che raggiunto il più primitivo limite della materialità iniziano la loro ascesa si forma così il sole che giunto al massimo della potenza comincia a retrocedere con il passare di millenni si trasforma in masse anerte di materia che soltanto quando giungerà un altro impulso capace di rimuovere la sua energia interna inizierà un nuovo ciclo solare lo stesso avviene per i pianeti nascono si sviluppano e muoiono per poi rinascere da capo così avviene per ogni cosa che abbia forma si passa dall'azione alla reazione dalla nascita alla morte dall'attività alla stasi e così via all'infinito lo stesso processo al luogo per le cose vigenti e viventi anche se nascono crescono e muoiono per poi ricominciare altrettanto per quanto riguarda tutti i grandi meccanismi culturali o di costume credenze filosofiche mode governi nazioni facci caso tutto nasce si sviluppa decade e poi ritorna il moto oscillatorio è sempre presente la notte segue il giorno come il giorno segue la notte il pendolo scilla dall'estate all'inverno e viceversa tutto compie il suo ciclo atomi corpuscoli molecole ogni massa di materia il riposo assoluto non esiste né esiste la cessazione di movimento tutti i movimenti prendono parte al ritmo universale ovunque si manifesta la ritmica oscillazione tra i due poli l'enorme pendolo dell'universo è sempre in funzione anche la scienza moderna ha ben compreso questo principio e lo considera come legge universale applicabile a tutte le cose materiali ma i maestri ermetici molto più avanti nella conoscenza delle cose occulte sanno che la sua influenza raggiunge pure l'attività mentale degli esseri umani sanno anche che lo strano mutamento degli stati d'animo e dei sentimenti apparentemente senza logica è dovuto a questo principio con l'applicazione di questo principio si può sottrarre ad alcune delle sue manifestazioni che ci stupiscono ed addolorano ci si può sottrarre si sono anche resi conto però che ci sono altri due piani in cui il principio del ritmo si manifesta uno più basso ed uno più alto di coscienza aver compreso tutto questo ha dato loro la possibilità di inserirsi nel piano più elevato sottraendosi così alle oscillazioni del piano inferiore per chiarire l'oscillazione aveva luogo ad un livello subconscio per cui l'oscillazione negativa non manifestandosi in termini consci non ne pregiudicava le vibrazioni lo studente avanzato riesce a concentrarsi sul polo desiderato e grazie ad un certo procedimento simile ad un rifiuto a neutralizzare l'influenza del pendolo rifiuta di seguire l'oscillazione retrocedente ma si sofferma sulla posizione acquisita in questo modo il pendolo il pendolo mentale oscilla solo sul piano subconscio chiunque possieda un qualunque grado di conoscenza delle discipline ermetiche compie più o meno consapevolmente quanto sopra abbiamo esposto applicando questa legge di neutralizzazione ogni volta che non si lascia influenzare dal proprio temperamento o stato mentale un maestro ha capacità assai superiori per quel che concerne l'applicazione di questa legge di questa legge grazie alla forza di volontà di cui dispone raggiunge uno stato di equilibrio e serenità mentale quasi inconcepibile per quelli che invece sono in continua balia del pendolo mentale dei sentimenti degli stati d'animo delle passioni l'enorme importanza di questo procedimento è parese per chiunque sia conoscenza della verità contraddittoria dei sentimenti e dell'effimera padronanza di sé che la maggior parte degli uomini possiede pensa anche solo per un attimo quanto le oscillazioni ritmi che hanno influenzato la tua vita non è forse vero che a periodi di grande coraggio sono corrisposti altri periodi di timori o che ad un momento di grande entusiasmo sia poi subentrato un senso di scoramento la maggior parte di noi però non sospetta minimamente la vera causa di tutto ciò impara ad adoperare questo principio perché significa avere controllo delle proprie oscillazioni ritmiche emotive miglior conoscenza di sé e minor probabilità di essere travolti da questi flussi e riflussi infatti malgrado il principio non possa essere completamente annullato può essere neutralizzato dalla forza di volontà forza di volontà che è superiore alle sue manifestazioni coscienti il pendolo oscilla sempre anche se noi non ne siamo trasportati naturalmente esistono altre spiegazioni dello stesso principio come la legge di compensazione a cui si riferisce il postulato l'oscillazione a destra del pendolo è pari a quella sinistra tutto si compensa nel ritmo la legge è valida in quanto l'oscillazione verso un polo ne causa un'altra uguale e contraria nella direzione opposta l'una bilancia l'altra gli esempi di questa legge sul piano fisico sono numerosi il pendolo oscilla in entrambe le direzioni con la stessa intensità le stagioni e le maree si susseguono con la stessa regola se lancia un oggetto verso l'alto questo dovrà compiere un pari tragetto per tornare a terra la forza che ha un proiettile che cade a terra è uguale a quella di andata eccetera gli ermetici però vanno molto oltre nell'applicazione di questa legge essi dicono che opera anche negli stadi mentali dell'uomo chi prova grandi piaceri è anche soggetto a tristi sofferenze mentre chi è poco sensibile al dolore lo sarà altrettanto poco per la gioia negli esseri umani ci sono temperamenti poco portati alla gioia e parimenti poco sofferenti altri capaci della più grande felicità come del più immenso sconforto di solito piacere e dolore si bilanciano confermando pienamente la legge della compensazione c'è di più per provare un certo piacere bisogna prima aver conosciuto proporzionalmente anche il polo opposto quello che c'è di più saliente nella interpretazione degli ermetici è il fatto che il negativo segue il positivo e non viceversa provare un certo piacere non comporta un istantaneo e corrispondente dolore ma al contrario il piacere segue il dolore già passato in o in questa vita o in precedenti incarnazioni il che apre una nuova dimensione sul concetto di dolore se non esistesse la reincarnazione l'oscillazione ritmica non potrebbe esistere dato che è incessante per sfuggire all'oscillazione verso il dolore bisogna applicare quel processo di neutralizzazione innalzandosi ad un piano più alto dell'io e sottraendosi a gran parte delle esperienze tristi di coloro che restano sui piani più bassi questa legge opera durante tutta la vita dell'uomo normalmente ognuno paga il prezzo di quel che ha o non ha ogni cosa piacevole ha un rovescio quello che uno raggiunge un altro lo perde i ricchi hanno la maggior parte di quello che manca ai poveri mentre questi hanno a volte cose che i ricchi non possono comprare e così vale per ogni altra cosa nella vita il principio del ritmo è all'opera ovunque cercando di mantenere l'equilibrio ci riesce sempre nel tempo anche se possono servire diverse vite per l'oscillazione di ritorno del pendolo del ritmo